Il Banco di Chiaveri è un marchio del Banco Popolare, però l'attenzione riservata a questo territorio è evidente. È un marchio che noi abbiamo sempre cercato di difendere perché ha una storia bellissima su questa regione e non solo su questa regione, lo abbiamo concentrato appunto sulla Liguria e il fatto che per noi sia un marchio importante è dato anche dal fatto che ogni volta che possiamo rinnoviamo le filiali, cerchiamo di essere più vicini alle clientela, cerchiamo di essere più piacevoli per la nostra clientela. Il Banco poi sta andando verso un matrimonio importantissimo con la Popolare di Milano, creeremo la terza banca italiana, ma l'intenzione di mantenere la presenza sulla Liguria con il nostro Banco di Chiaveri è sempre molto fortissima e non verremo mai meno al nostro impegno. Quindi l'identificazione al territorio è comunque una politica che il Banco Popolare ha forse al suo interno come DNA? Noi nasciamo dall'unione di tante banche popolari, tante banche popolari medio piccole che hanno formato appunto il Banco Popolare, quindi c'è la Novare, Chiotto Bergamasco, San Gimignano, la Verona e la Lodi ovviamente che è quella che governo io e questo rimarrà sempre. Poi che i marchi rimangono tutti o che nel tempo si scelga di adottare altri schemi, ma il legame col territorio è nel DNA di questa banca da oltre 150 anni, quindi non lo perderemo mai. La situazione delle banche in Italia in questo momento è quanto mai controversa per mille motivi. La solidità della Banco Popolare pare invece un'evidenza in questo senso. Ringrazio molto per questa domanda. Diciamo che mentre dieci anni fa il mondo delle banche era rappresentato da banche tutte molto simili e alla fine la differenza la faceva il prezzo e la qualità del servizio, aggiungo spesso io, oggi il mondo delle banche è completamente differenziato. Ci sono banche solide, ci sono banche molto deboli, ci sono banche liquide, banche che invece hanno difficoltà, ci sono banche buone, ci sono banche cattive secondo me. Quindi è importante per la clientela poter scegliere, poter identificare bene quali sono le banche di cui fidarsi e comunque io quello che dico sempre auspico che al più presto anche quelle banche che oggi hanno difficoltà si sistemino molto brevemente perché è importante che per il sistema economico italiano le banche funzionino tutte e con nessuno si augura che qualche banca scompai e con nessuno già scomparsi in questi ultimi anni. Spero che sia finita. Dal suo osservatorio una domanda che è di curiosità rispetto all'osservatorio dal quale lei può visionare la situazione. Il Ligure ha ancora questa tendenza al risparmio? Sì, guardi, noi su questa regione abbiamo una raccolta molto importante, quindi la tendenza al risparmio non è venuta meno come tendenza al risparmio. Come quantità pro capite c'è stata una leggerissima diminuzione in questi ultimi anni sul pro capite perché comunque purtroppo la crisi ha segnato l'entità dei risparmi degli italiani e ha segnato anche l'entità dei risparmi degli Liguri ma rispetto a altre regioni comunque si è mantenuto molto più forte questa propensione qui in Liguria sicuramente.